C'è un incontro con il mondo della scuola che naturalmente è importante soprattutto perché lei rappresenta questo riscatto del lavoro legato alla marineria. Io ho portato qualche foto in più, mi sono permesso, prego, ci parli della sua esperienza e com'è nata questa passione. La passione, diciamo, lavorativa per eccellenza erano le lingue, perché una docente di lingua è Bruxelles e tutto poi viene abbandonato per il mare. Prego. Eh sì, con tanto distagio al Parlamento europeo, dove mi occupavo di turismo, di offrire il prodotto Sicilia, quindi una grande passione per il sud, un po' come voi, un po' come l'associazione e lo scopo dell'associazione. Però legata come ero al territorio cercavo di fare qualcosa per tornare, per non andare più via, perché insomma essere legati alla propria terra e fuggire ogni volta, mi sono detta che non era più possibile. Per un caso mi sono ritrovata a vivere per una scelta d'amore, quindi insieme a mio marito, in un borgo marinaro, molto piccolo e molto deserto, dove non avevamo praticamente nulla da fare se non andare a pescare e vivere così di sole, mare, spiaggia e tutto quello che ne consegue. Per cui, in un tempo non sospetto, iniziai con una piccola barchetta da 3,50 m, che si chiamava Margheritina, perché mio marito, affettosamente, essendo piccola la barchetta, piccola io, d'età e tutto il resto, di statura. Insomma, cominciai a dedicarmi a questa barca che ho adorato, perché io la carteggiavo, la pitturavo, insomma me ne sono occupato come se fossi un marinaio e non lo ero ancora. Quindi nessuno poteva mai credere che io avrei un giorno lasciato, la carriera e tutto il resto per queste attività. Margheritina negli anni cresce, da 3,50 m si estende a 15 e dà una gestione molto facile, come può essere quella di un gozzo di 3,50 m, mi sono ritrovata, insomma, ad una barca più impegnativa con due motori, dove avevamo un equipaggio, ma io non soddisfatta di come venivano gestite le cose, ho provato a farmi strada da sola. Quindi su quella barca io sono stata mozzo, marinaio, hostess, cuoca, motorista, perché piano piano mi sono appassionata sempre di più, quindi motorista, in seguito comandante, poi da lì ho cercato di estendere le attività. Mio marito, un uomo che mi ha sempre sostenuto, perché di mare, quanto me, forse più di me, quindi se non avessi avuto questo affetto, questa tradizione anche familiare, perché mio marito ha avuto già tre barche prima, insomma, di conoscerci, non sarebbe stato possibile, perché è fondamentale avere, insomma, il supporto di chi condivide l'intera vita con il proprio partner, una vita dura, quella marittima che costringe, insomma, ad orari estenuanti, a grandi assenze, insomma, se non ci fosse stato mio marito a sostenere sempre tutti i miei desideri di studio e di pratica anche della navigazione, non sarei qui a parlare con voi, stasera. Quindi, piano piano, ho cercato di amplificare le esperienze, perché la navigazione è un po' settoriale, le barche non sono tutte uguali, non sono tutte della stessa dimensione, non hanno tutte, non navigano tutte alla stessa maniera, a seconda dei documenti che recano, eccetera, quindi la curiosità mi ha portato ad effettuare imbarchi di tipo diverso, su mezzi di tipo diverso e in tutto il mondo, perché piano piano mi sono, insomma, fatta a strada e mi sono spinta anche oltreoceano, come diceva Giuseppe. Per cui oggi eccomi qua, felice di questa carriera, felice di aver abbandonato tutto, dalla mia terra poi mi sono chiaramente spostata, rimane sempre un occhio di riguardo per la Sicilia e per il sud, perché io oggi mi occupo anche di turismo nautico, non solo di navigazione pratica, ma organizzo pacchetti vacanze praticamente dovunque e quindi do priorità alla mia terra rispetto alle solite mete supernote come Monte Carlo, come le Bahamas, che chiaramente sono importanti dal punto di vista remunerativo, perché bisogna lavorare per guadagnare, per vivere e per mantenere il patrimonio quando si ha una responsabilità come quella di questa sera. E quindi, insomma, ho cercato di mantenere questo filo diretto con il sud. E questa è la mia storia. Io il premio, prima di commentarti nel foto, io il premio lo vorrei dedicare innanzitutto a mio marito, perché è giusto. Lo dedico a mio cugino anche Ivan Drogo Inglese, il barone Drogo Inglese, che insieme a mio marito rappresenta un altro grande sprone per me, è un'altra persona che acclama continuamente le mie attività, piuttosto che demolirle come fanno in molti, perché giustamente di fronte alla femminilità e di fronte alla carriera che io ho lasciato si tende a dire ma chi te lo ha un lavoro pesante, è difficile ed è pericoloso, eccetera. Io sono testarda e invece non ascolto nessuno. Sono felice e soddisfatta di quello che faccio. Ho sempre grandi progetti, perché il mare è una fonte esauribile di interesse ed è infinito lo spazio che può offrire, perché poi dal momento pratico si può passare al diritto della navigazione, si può passare all'economia del mare, a tanto altro, cioè il risvolto intellettuale della professione che è quello verso il quale sto andando in questo momento. La dedica che mi avete fatto a proposito di divulgazione della cultura marinaresca per me ha un'importanza fondamentale, perché è un mondo degli addetti a lavori che io invece voglio trasferire ai ragazzi di oggi. No, sto per concludere. Quindi dicevo che dedico il premio anche a mio cugino che mi sostiene tanto quanto ha fatto mio marito e al nostro modello di riferimento familiare che ha unito le famiglie Lanza di Scalea e Drogo inglese, che è la principessa di Deliella, Annita Drogo, che sposò Nicolò Lanza di Scalea e che è stata una donna di grande forza, che ha fatto le sue battaglie contro un mondo maschile a terra, quindi un po' io ho preso questo modello, l'ho trasferito in mare e quindi dedico anche a lei. Donna Magherita ci deve raccontare, vent'anni fa vi raccontavano, riusciva a entrare in determinati settori perché la vedevano donna, erano tutti uomini dopo un po' tutti uomini cattivi e brutti che mi dicevano palesemente non prendiamo donne, quindi io che avevo il desiderio di fare la carriera mi sono trovata di fronte a un mondo chiusissimo, vent'anni fa non era come oggi, oggi qualche ragazza che vuole intraprendere la carriera da ufficiale si comincia a vedere, mentre vent'anni fa è stata dura, durissima, ho dovuto fare una grande lotta e quindi mi è costato grande fatica, ho impiegato molto tempo a raggiungere i miei obiettivi, ce l'ho fatta però, ecco perché voglio trasferire anche la mia esperienza ai ragazzi. Devo dire che appunto parlando, discutendo, lei stessa faceva questo riferimento, in mare solitamente dall'aristocrazia, perché appartiene a una delle migliori famiglie aristocratiche europee, perché ci puoi anche dire le origini, da dove è il proprio donna Magherita, direi anche questo che il mare solitamente dall'aristocrazia non è tanto considerato tra virgolette. In genere la cultura aristocratica abborrisce il lavoro, o meglio abborriva, oggi non è più possibile, cerchiamo tutti di lavorare perché non è più possibile vivere come si poteva vivere un tempo e quindi io non ho avuto aiuto da parte della parentela, piuttosto un atteggiamento demolitorio come dicevo prima e quindi non sono mai stata una raccomandante, non sono mai stata spinta da nessuno, soprattutto perché non c'erano questi rapporti con il mondo del mare, quindi anche a volermi aiutare, anche se qualcuno ci fosse un po' accorato, non sarebbe stato possibile perché è un mondo troppo degli addetti ai lavori, troppo avulso, troppo lontano da altre realtà lavorative e per cui ho fatto anche quest'altra battaglia personale. Io prima dell'attento dedico appunto questo premio al marito che non c'è più, quindi facciamo un applauso perché insomma per molti giorni mi permetto di dire questo. Donna Margherita, che cosa ha appreso dal mondo del lavoro a cui appartiene? Il rigore, intanto è venuta da sola, indipendente, naturalmente mi ha detto io non ho paura del mare, figuriamoci di venire a reggiocare da sola, quindi questo è vero. Che cosa c'è dal punto di vista lavorativo che lei ha appreso? Sicuramente il decisionismo fa parte di questo mestiere perché non si potrebbe gestire una gerarchia, un'impostazione gerarchica come quella marinaresca, avevo già un caratterino da giovane, è arrivato un po' più di disciplina con il mestiere del mare sicuramente, un po' più di coraggio negli anni, fondamentalmente questo. E poi possiamo anche fare un riferimento per grandi aree perché ha cercato di portare con il panorama nazionale la cultura del mare e anche dal punto di vista politico perché è stata anche presente dal punto di vista politico in un istituzionale, è stata un'esperienza, una parentesi della sua vita, promuovendo che cosa? Prima la vicepresidente accennava alle Egadi, se non sbaglio, per molti anni mi sono dedicata al pescaturismo alle isole Egadi, ho cercato di lanciare una forma di turismo nuova, visto che era uscita una legge un po' di anni fa, alla quale nessuno dava uno sguardo, per cui io la trovavo interessante, poi si confaceva in qualche modo ai miei studi, avevo studiato lingue straniere, mi occupavo di turismo, avvicinare la pesca al turismo mi sembrava una cosa interessante. L'ho fatto per molti anni, ho pagato il prezzo dell'ambiente del sud che è sempre molto difficile e che ti abbandona quando sei pioniere in qualcosa, quindi non c'è stata una spinta da parte delle amministrazioni, non c'è stata una spinta, una moda regionale perché un singolo imprenditore fa molto poco, con le proprie forze diventa un dispendio di energie e di soldi notevole e quindi poi a un certo punto ho abbandonato, ma soprattutto perché è interessata ad altri ambiti della navigazione, non tanto perché è stanca dell'attività di pescaturismo. Però diciamo che per dieci anni mi sembrava già sufficiente avere fatto questo, guardavo oltre le fotografie. Ecco, questa è una figlia diretta del pescaturismo alle isole Egadi, qua siamo io e mio marito in seguito ad una battuta di pesca con le nasse che sono attrezzi da posta, ecco io a timone, questa è una foto scattata nel canale di Corinto dove mi si è spento il motore e quindi ho rischiato che quelli che stavano dietro mi venissero addosso, poi per fortuna si è ripristinato. Ecco, qui sono in Fincantieri, Fincantieri Palermo dove ogni tanto vado a sentire un po' di risvolti moderni della tecnologia perché Fincantieri Palermo ha una grande peculiarità, sono specializzati nel taglio e nell'allungamento delle navi da crociera, quindi tagliano e allungano, fanno questi lavori con uno scatto di 5 mm, quindi la precisione è tale che nel taglio sono quasi perfetti, lo scatto è 5 mm, quindi mezzo centimetro di errore praticamente e quindi anche in virtù del mio incarico come consigliere di Atena, questa associazione di cui parlava Giuseppe, io mantengo i rapporti con Fincantieri e con tutte le istituzioni che rappresentano la cantieristica o comunque la marineria. E quindi Fincantieri Palermo mi sembrava interessante, azienda del sud per cui anche in questa ottica. E qui sono in navigazione. Tra l'altro sono anche immagini... Qui smonto il monto, non mi spavento di sporgarmi le manine, nessuno ci crederebbe mai, ma io col cacciavite sì. Qui è sempre in cantieri con una vecchia bussola e questa non so dove l'avete presa, non è sicuramente in navigazione. Questa è la Paniguno invece. Ecco, qui sono con il capo dei piloti di Trapani, altra corporazione importantissima perché tutte le navi quando entrano in porto devono essere assistite. Chiaramente un comandante non può conoscere tutti i porti del mondo e alcuni porti magari possono essere particolarmente difficili. Adesso magari vi racconto la mia esperienza alle Bahamas, proprio a proposito di navigazione complicata. Sono tornata poco alle Bahamas. Sono tornata da pochissima alle Bahamas, sono abbroncata. E quindi è necessario che qualcuno faccia un'assistenza. Questo compito viene svolto dal pilota che sale a bordo e assiste il comandante nell'ingresso in porto. E quindi qua parliamo del piano del porto e c'è questa foto. Le prossime attività che Donna Margherita farà per quanto riguarda il suo ruolo, quali saranno? Intanto c'è l'Italia della Degge. Quindi questo è una promessa che abbiamo e che noi sappiamo a dove dobbiamo andare. Sicuramente, con tutte le copole che mi avete fatto, questo è il minimo. Vi volevo raccontare delle Bahamas perché è un tipo di navigazione diversa. I fondali delle Bahamas, a proposito di difficoltà, è come se si muovessero continuamente. Ci sono delle, a parte le escursioni di marea che sono notevoli, noi siamo abituati a piccole differenze tra alta e bassa marea. Ci sono luoghi invece dove le, si dice escursioni di marea, dove le escursioni di marea sono molto, molto ampie. Quindi bisogna negare i transiti. Se si fa un errore del genere, la barca finisce incagliata e quindi è molto rischioso. E si naviga all'antica. Si manda un marinaio con una piccola barca in avanguardia e si scandaglia il fondale con un mezzo marinaio, con un bastone, con qualcosa, per controllare di volta in volta se coincide con gli strumenti elettronici che abbiamo a bordo. In questo caso con l'ecoscandaglio che ci dice la profondità del mare. E quindi questa navigazione, questo ritorno alla preistoria quasi, questa difficoltà di fare gli attraversamenti di canali o di, essendo isole le Bahamas, capite bene, che bisogna insinuarsi tra un'isola e l'altra. Quindi questo problema si presenta continuamente con un grande dispendio di tempo e di energie perché si dorme un po' meno, dovendo fare tutte queste operazioni. E poi è un fondale che si sposta, che cambia continuamente e che non coincide con le carte emantiche perché ha questa caratteristica. Quindi quest'anno io ho fatto un'esperienza davvero molto interessante dal punto di vista tecnico e sono molto felice. Dal punto di vista personale mi sono sentita un po' la piratezza dei Caraibi perché ci sono due donne che hanno fatto la rivoluzione del mondo marinaresco e sono due donne pirata, Anne Bonny e Mary Reed. Mi sono ricordata, andando alle Bahamas, di queste due donne che hanno stravolto il mondo del mare e mi sono detta, forse un po' somiglio a queste due donne perché una volta le donne erano mal viste a bordo quindi non potevano essere imbarcate. Nel mondo della pirateria invece sono state accettate. Certo, a che prezzo? Un po' quello che ho pagato io, quello di scontrarsi con questo mondo maschile per farsi accettare vestivano abiti maschili e hanno dovuto tirare fuori efferatezza per farsi strada tra ciurme di uomini. Stessa cosa ho dovuto fare io per farmi strada, purtroppo. oggi anche se sembrerebbe superato, il problema in realtà non lo è. Queste donne tra l'altro europee sono diventate eroine del nuovo mondo quindi mi sono un po' sentita pirata anch'io. Un po' per l'allogia. l'epoca disse che sono giovane e devo rimanere nella mia terra e quindi da quel di Palermo poi si trasferisce a Trapani, in Trapanese però la sua residenza, proprio forse per la salubrità dell'aria perché io ho un ricordo ventoso come le accennavo una domanda io gliela voglio fare fare da un comandante perché qui in sala c'è un comandante ed è il comandante Mimmo Pellegrino se non sbaglio eccolo qui quindi facciamo un applauso perché stasera c'è un po' di tutto e il comandante può benissimo intanto il grande piacere di conoscere una collega una collega che posso confermare che ha avuto un gran coraggio perché non solo erano mal viste ai miei tempi posso dire ma addirittura si diceva che portassero pure male perciò giusto le donne a bordo erano un elemento di disturbo senza dubbio perciò no attualmente sono un comandante di noi mercantini se ho capito si occupa lei si occupa invece di una barchità di porto una barchità di porto se non sbaglio un po' di hotting un po' di hotting che bisogna rispetto a noi che siamo molto più specializzati noi siamo un mercantile c'è la coperta qua è un po' più complicato perché devono essere pratiche anche di votori perciò quello che la voglio dire appunto adesso come ha visto cambiare questo mondo rispetto a prima perché qualche figura femminile adesso si vede io ho colleghi già che sono comandanti di navi anche se non c'è una certa ritrosia però dal suo punto di vista volevo scoprire parla della marineria in generale o solo dello hotting? no dello hotting forse c'è più normale se non si ha in questo settore la marineria in generale perché noi hotting forse sono schifta e un po' più... beh se parliamo di barca a vela forse sì se parliamo di barca a motore no devo dire è ancora abbastanza complicato il mondo del motore ma il grande cambiamento è l'aumento del numero delle donne però in realtà io non registro grandi novità e devo dire certo la marineria cambia si evolve anche dal punto di vista tecnologico cambia un po' il timone con le capiglie visto come aveva... eh visto le foto sono di anni diverse anni diversi si si c'è questo... della bussola della bussola però sono tornata alle basso con la preistoria con questa navigazione all'antica quindi non vedo grandi non registro grandi novità per la verità se devo essere sincera no 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 sono felice che adesso le ragazze che decidono di studiare al nautico sono ancora pochine però ci sono no no se c'è un... non si ritrovano no no se c'è un... 70 c'è un nome al nautico ce n'era una una ora vengono a bordo per fare l'alternanza scuola o meno che... sì poi magari non proseguono perché non sono invogliate perché manca questo stimolo nei confronti del mondo marittimo e quindi... beh sono sicuramente aumentate non si trovano di fronte le porte sbarrate come mi sono trovata io perché io davvero ricevevo delle risposte terrificanti mi dicevano non prendiamo donne io che adoravo il mercantile piuttosto che lo yachting oggi sono felice di fare yachting perché capite bene che si parla di un mondo raffinato dei posti più belli del mondo mentre il mercantile insomma ci fa vedere porti commerciali container caricazione scaricazione insomma porti lontani magari dalle città quindi non sempre si può uscire si rimane prigionieri a bordo in buona compagnia in buona compagnia quindi insomma sono due mondi completamente diversi quindi sono felice di occuparmi di yachting è chiaro però nel mio cuore c'è la marina mercantile e c'è il rimorchiatore d'altura nel mio cuore perché il mio primo training fu su un supply vessel che io adoro secondo me sono il massimo della marineria per quello che è rimasto perché ancora bisogna essere veramente male da oggi con tutta questa elettronica a bordo cominciamo a perversi mentre il supply è molto tecnico l'anno scorso ho partecipato ad un progetto di un mese e mezzo abbiamo fatto lavori su un pozzo petrolifero e ci siamo divisi tra la Spagna e la Puglia ed è stato interessantissimo io ho dormito pochissimo ma ero così felice perché tornavo ai primordi perché il mio primo training è stato su un supply ho fatto sei mesi pieni per cui io ero felicissima di tornare indietro ma mi hanno mai voluto e quindi mi ero abbandonati per lo yachting se sei in bordo si deve dormire quando non si ha sogno si deve mangiare quando non si ha fatto non si sa mai se un giorno dopo è un mare in conclusione donna Margherita che cosa porta con sé da Reggio Calabria in quella di Erice anche se insomma viaggi ne fa tanti conosce diverse realtà da questa realtà quando io insomma l'ho contattata non era molto sicura, 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 sicura ma io ho detto si può fidare tranquillamente di noi e mi ha dato anche una grande soddisfazione perché quando io ho comunicato della consegna del premio Muse ha avuto riscontri perché in Sicilia si parla molto del premio Muse che lei stessa venerdì era una presentazione di un libro felicissima di scoprire che molti conoscevano il premio Muse io lo conoscevo dico la verità non è annulazione ma sapevo già del premio Muse quindi quando avete deciso di premiarmi ero super felice perché è la prima volta tra l'altro che mi premia per questo l'ho detto prima e quindi insomma facevo i salti di gioia io vuoi sapere la verità cosa mi porto dalla Calabria? sì però è la verità mi devi credere io mi porto voi il vostro carattere è il vostro effetto grazie 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 alla principessa Margherita Lanza di Scalea sono arrivate anche altre personalità prima facciamo fare un saluto alla mia presidente a Disco associazione sangue cordone umbilicale perché sapete benissimo che siamo sostenitori anche noi la signora Franca Renatucci sappiamo con queste difficoltà ma è qui presente un saluto prego la lasciamo al suo posto non si preoccupi sì io chiedo scusa a tutti perché non mi alzo perché è un anno che sono ferma per la frattura di vertebre e quindi è una cosa abbastanza seria ma questa sera non potevo proprio non venire a costo di morire così come sono arrivata perché per noi la professione dei voti come lei avrà immaginato è un punto di riferimento per la città perché è una persona che riesce a cogliere nei momenti appena le vengono prospettati non lascia un attimo quindi sa come lo sa deve fare come deve preparare e per quale motivo lo deve fare io lo ringrazio perché lei dato che ha parlato del cordone umbilicale abbiamo questa bellissima realtà in città e di cui il professore è stato uno dei primi sostenitori e soprattutto che ha dato largo spazio perché noi qui a Reggio abbiamo parlato di queste cellule staminali quando ancora in Italia non si sapevano a provvitto dell'occasione per dire a tutto l'uditorio delle muse soci e non soci che noi il 15 novembre festeggeremo il trentesimo anniversario del primo trapianto su un bambino di un anno ammalato di leucemia che fece la professoressa Buckman in Belgio da lì si parlò poi dell'importanza di questo cordone umbilicale che solitamente veniva gettato e poi cominciò a espandersi nel mondo e oggi in Italia siamo in paecchie tutte le regioni hanno la loro sezione regionale perché effettivamente è un dono di Dio sono delle cellule salva vita e quindi quando si riesce a fare una cosa del genere ogni momento di come dire di stanchezza passa e passa veramente molto molto presto io ringrazio di aver riconosciuto la persona come lei e Scalea mi ricordava i miei trascorsi quando ero ragazzina andiamo in villeggiatura a Scalea perché c'erano del mare e cominciavano già le grandi arterie le grandi comunicazioni ed è un posto veramente bello e quindi io l'ho associata a quel periodo mio abbastanza felice perché ero ragazzina e i ragazzini solitamente vivono in un mondo felice grazie alla presidenza disco è arrivato in questo momento perché prima l'ho dovuto celebrare dal primo settembre è il parroco degli artisti voi sapete quanto noi vogliamo bene agli artisti io da critico e quanto collaboriamo con tutte le realtà tra poco lo vedrete nel programma che vi daremo il nostro Don Nuccio Cannizzaro parroco degli artisti alla chiesa di San Giorgio al Corso è arrivato ora per un saluto in un luogo deputato quale è L'Emuse prego 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 da questa parte io l'ho visto arrivare a promessa mantenuta nonostante gli impegni buonasera a tutti buonasera sì non potevo mancare perché conosco da molti anni da quando era quasi bambino a Peppe quindi l'ho seguito nel suo itinerario culturale e sono venuto per dare un saluto la chiesa degli artisti è una bella scommessa io credo che questa città ha bisogno di arte lo dico sempre anche nelle mie prediche perché il degrado di questa città è segno di una decadenza culturale e purtroppo la carenza della cultura in questa città è fortissima abbiamo le istituzioni le università le accademie eccetera ma a mio avviso non incidono sulla struttura mentale della città dei nostri giovani e quindi dovrebbero cominciare a fare sinergia la chiesa degli artisti è un luogo aperto a tutti non solo per pregare per chi ha fede ma anche chi non ne ha perché credo che l'arte può essere la via maestra per far incontrare tutti perché l'arte è vita l'arte è sviluppo l'arte è progresso e allora dateci una mano perché questa chiesa degli artisti non diventi non sia solo un contenitore vuoto o sterile ma sia veramente o diventi veramente questa chiesa un luogo di incontro di formazione di crescita per tutta la città ma soprattutto per i giovani che hanno bisogno i giovani di una nuova identità anche per non scappare via per restare in questa terra perché noi ci stiamo impoverendo proprio perché l'esodo dei nostri giovani sta portando questa terra al degrado siamo già ormai alla fine a mio avviso se non cambiamo in qualche maniera veramente io non sono pessimista sono ottimista però la realtà è questa ecco che le muse sono una goccia d'acqua in questa terra ma benvengano tante associazioni come le muse ma se noi facciamo però sinergia se permettemelo di dire se usciamo dal nostro piccolo uscio perché perché tante volte gli artisti sono molto soggettivisti molto egoisti molto chiusi hanno quasi paura di perdere qualche cosa ecco la tua associazione insieme a tante altre dovrebbe aprirsi alla cultura del dialogo tra gli artisti perché perché se il vero artista non è mai invidioso dell'altro e se ci mettiamo insieme semmai ci emuliamo ci impegniamo ad essere vediamo se sono più bravo di te e in una crescita continua e allora sarebbe veramente bellissimo se noi potessimo cominciare a fare così l'arte nel senso grande del termine che ci avvicina a Dio perché il più grande artista è Dio allora vi ringrazio dell'ascolto io sono purtroppo in ritardo ma la sera si celebra nelle chiese ancora anche se il tempo è brutto e le persone sono rannicchiate nelle case però vedo questa sera non avete avuto paura grazie a Don Luccio penso che il pensiero è condiviso anche dal professore Pino Cattuso che è docente di scultura all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria si accomodi allora tra poco ci sarà un rinfresco al secondo piano state calmi e tranquilli penso che avrò avuto tantissime imboscate per sapere dov'era questo programma nascosto in ogni dove e dammi il programma e dammi il programma per il programma dove il programma chi c'è nel programma come è fatto il programma e che argomento c'è e come farai beh è solo questo con nomi cognomi fatti persone e personaggi io vi dico questo ho accontentato tutti io mi auguro di non avere fatto grandi strafalcioni mi auguro penso di no perché ho cercato di fare rete con tutti quindi dovete avere un attimo di pazienza tanto sono molto veloce è una caratteristica che facciamo ogni anno lunedì 29 domani saremo alle ore 9 al liceo scientifico Volta ci accoglierà la preside Palazzolo con la nostra principessa donna Margherita Lanza di Scalea incontrerà il mondo della scuola novembre domenica prossima qui alle ore 19 si terrà l'appuntamento con il festival teatrale miti contemporanei diretto da Teresa Timpano e avremo la stralci da Ecuba di Euripide una scenografia bellissima con delle fiaccole capirete che cosa che cosa ci sarà non posso dire di più questo festival itinerante che va nei luoghi deputati della cultura venerdì 9 venerdì 9 inizia il protocollo con l'archivio di Stato quest'anno i video dibattiti delle muse il nostro cinema che da tanti anni viene fatta e che mi hanno detto tra l'altro viene inizia a essere copiato e tutto noi lo dobbiamo alla nostra referente sempre presente e mi auguro che lo sia anche di più quest'anno la dottoressa e critico cinematografico Paola Abbenauli che è qua e che facciamo un applauso per la sua collaborazione i video dibattiti si terranno ogni primo venerdì del mese argomenti che verranno abbinati a un documento e qui la dottoressa Maria Fortunata Minasi che ringrazio non è presente per impegni familiari faremo un momento di condivisione tra fonti documentali e mondo della cinema Paola vieni un attimino quest'anno abbiamo scelto degli argomenti molto particolari che abbineremo inizieremo proprio il nove con l'emigrazione l'emigrazione quindi com'è il cinema in Calabria? eh il cinema in Calabria ha anche una solitarietà soprattutto in questi ultimi anni molto legata al territorio quindi molto attento al territorio questo è un tema che mi sta molto a cuore quello dello sviluppo dei territori anche attraverso il modo dell'audiovisivo e speriamo che sia sempre che vada sempre più avanti in questa direzione ringrazio e ringrazio tutti i soci per avermi seguito sempre in questi anni in questa bella bella iniziativa avuta nel Presidente non sapevo che era stata copiata ma insomma ma va quando i dati non vuol dire che le cose non erano di sì grazie grazie a Paola amica di lungo corto domenica 11 novembre un argomento molto particolare è presente qui in sala io la saluto e la ringrazio è una scrittrice che alla sua prima lo è diventata perché ha dato alla stampa una storia personale molto forte che vi racconterà qua quindi vi inviterò poi tutti a venire domenica 11 la vita a oltre non vi posso dire di più ci sarà Antonio Nicolò anatomo patologo Santino Salerno critico letterario da quel di Palmi di grande spessore Patrizia Pipino la scrittrice che è qui presente e poi ci sarà Samuela Piccolo ballerina e coreografa e l'avvocato Rocco Ioriati è una mostra degli artisti delle muse che ha per titolo Ripunto Nascere ma di più non vi diciamo è una storia molto forte che è accomunata da un problema attuale che naturalmente la società sta cercando di combattere sono le malattie quelle importanti però noi ve lo racconteremo a nostro modo con un libro che veramente parla al cuore domenica 18 viene da quel di Roma una soprano molto importante che si è formata nel conservatorio di Reggio Calabria Adriana Morelli Adriana Morel la quale da scrittrice presenterà il suo libro e questo lo faremo nell'auditorium della Chiesa del Soccorso noi apparteniamo come naturalmente ci faceva notare Monsignor Nuccio Gagnizzaro apparteniamo come galleria come associazione a questa parrocchia e quindi collaboriamo con la parrocchia siamo presenti nel Consiglio Pastorale e poi con tutte le altre realtà come il Tempio di San Giorgio nell'auditorium alle ore 18.30 presenteremo questo libro Ineffabile Presenza sarà presente Andrea Francesco Calabrese pianista di grande eccellenza docente del Conservatorio Cilea Monsignor Giorgio Costantino Armando Siciliano il famoso Armando Siciliano editore che è uno degli editori di punta dell'Italia del Sud e le coreografie del maestro ancora Antonio Piccolo mentre la presentazione la farà Mirella Marra già direttrice dell'archivio di Stato lunedì 19 purtroppo per un problema di viaggi abbiamo la domenica un nome importante in lunedì ne abbiamo un altro ancora di più importante perché potete sapere chi viene lunedì 19 qui alle muse e autrice ghostwriter e copy editor redattrice con Mondadori e Sperling e Caffer esattamente Nicoletta Bortolotti che presenta il suo ultimo romanzo Chiamami sottovoce è una delle più quotate attualmente e quindi l'avremo qui e la presenterà la dirigente Franca Francesca Fedele già dirigente scolastico dell'Istituto Nosside domenica 25 novembre iniziano i nostri piccoli viaggi culturali perché andremo in quel di Sant'Ilario sullo Ionio partendo il pomeriggio in quanto presso il palazzo Speziali prima andremo a vedere il nuovo museo delle tradizioni popolari che è molto bello ma alle ore esattamente alle ore 18 faremo una cosa importantissima faremo una manifestazione che ha per titolo impegno civile con noi ci sarà e voi penso subito la riconoscerete Deborah Cartisano il famoso diciamo che era il sequestro Cartisano con la figlia che è coordinatrice di Libera Lopide Antonio Carneri consigliere comunale con delega della cultura del comune di Sant'Ilario Ilario Amendoria che è il direttore della Riviera Federico Arrocisano presidente della cooperativa Hermes 4.0 nonché già assessore credo regionale alla pubblica istruzione venerdì 30 guardate che quest'anno è un programma io non ho dormito per due settimane cercando di ricordarvi chi incontravo chi mi ha detto e chi mi venerdì che abbiamo qua venerdì 30 venerdì 30 alle ore 18 presenteremo un corto che ha come autore e lo ringraziamo per come sta promuovendo anche i nostri appuntamenti il capo redattore della Gazzetta del Sud il dottore Aldo Mantineo presenteremo Zagara e Cemento e ci sarà con noi la presidente dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Reggio Calabria la dottoressa Francesca Gioffre e c'è un motivo per cui lei ci sarà perché questo documentario parla proprio della contaminazione della natura e dell'urbanizzazione violenta sabato primo dicembre di mattina siccome è il mese dedicato insomma al Natale alle feste saremo all'archivio di Stato con i ragazzi della scuola con il secondo video dibattito il tema è il cibo lo facciamo di mattina aperto alle scuole domenica 2 qui in sede faremo il prologo di un Natale un dialogo tra arte storia e tradizione una cosa molto particolare ci sarà con noi Don Mimmo Cartella parroco della chiesa di Santa Lucia Angelo Vecchio Ruggeri già dirigente scolastico Ambrogio De Lorenzo che è proprio l'immagine di Babbo Natale ferma terra capitale della cultura mi andrò poi in Lapponia quindi lo dobbiamo fare per forza il 2 dicembre perché se no non può andare a fare il suo lavoro e poi avremo un coro e vi prego di fare un applauso a Corella quale ha portato i soci delle Muse coloro i quali hanno voluto partecipare a livelli altissimi è un riferimento per la musica corale a Reggio Calabria e la nostra referente del coro la professoressa e il maestro Enza Cuzzola che ci porterà con il giorno Alza di Enza vieni vieni un attimino ci porterà il coro Laudamus che è diretto tra l'altro non solo da Enza ma anche da sua sorella Marina sono due sorelle gemelle che fanno anche la stessa attività e grazie per il lavoro che fai con noi lunedì 3 faremo sempre lo stesso prologo di un Natale alla scuola elementare GBO Alvaro e ci sarà il saluto di Maria Rosa Monterosso dirigente scolastico sabato 8 e domenica 9 classica gita dei presepi noi facciamo il primo viaggio di Natale andremo nel Leccese ed esattamente a Castro e a Maglie sono due cittadine bellissime ma i viaggi che facciamo noi non li fanno gli altri se no perché e andiamo avanti dopo questo abbiamo dopo questo viaggio sabato 15 sabato 15 inizia il protocollo col comune di Staiti col comune di Staiti faremo nel pomeriggio inaugureremo presepi degli artisti delle muse nel borgo abbiamo identificato i catoi le case più rappresentative verrà fatta una cartografia i presepi verranno dislocati all'interno degli edifici storici di tutta Staiti quindi il visitatore per tre settimane potrà andare e visitare chiaramente ci sarà l'inaugurazione ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale appunto Leo Campanella e il Sindaco Giovanna Tripodi domenica 16 avremo la Santa Messa dell'Associazione Le Muse presso la Chiesa del Soccorso con il Coro delle Muse diretto da Maestri Enza e Marina Cuzzola al pianoporte Rosaria di Voti alle ore 20 la cena dei soci e quindi l'inmissione dei nuovi soci vi posso dire che abbiamo avuto un buon riscontro faremo la consegna del distintivo e la cena presso il vistorante la lampara martedì mercoledì 26 il giorno di Santo Stefano faremo qui il classico tomboliere molto particolare tomboliere muse voi capirete che cosa è venerdì 28 presenteremo la nuova pubblicazione del libro di poesie della poetessa e soggia delle muse Teresa Celestino e sabato 5 gennaio faremo il classico viaggio che conclude le feste il viaggio della Befana e quindi durerà un giorno vedremo dove andremo venerdì 11 saremo all'archivio di Stato sempre all'orario alle 18 con Paola Benavoli si parlerà di disabilità perché gennaio è il mese dei disabili quindi video dibattiti saranno collegati ai disabili domenica 13 i nuovissimi conversazione alle 18 con Sasha Sorgonà presidente dei giovani imprenditori della Confu Commercio Enrica BV stilista Lucia ed Agostino Azzara artigiani e designer del legno e il psicoterapeuta il dottore Guido De Caro quindi vedremo questi nuovissimi questi giovani oggi come si muovono nel mondo dell'amore e della creatività domenica 20 alle ore 18 primo secondo e frutta avremo Anna Siviglia e Michele Carbone del pastificio Carbone quindi parleremo di pasta avremo Giuseppe Bellè e Francesco Anghelone e parleremo della Nona di Calabria avremo Anna Beatrice Panzera del frantoio Panzera parleremo di olio e Giuseppe Gindemi che è nutrizionista e biologo e faremo una collettiva d'arte dal titolo piatti domenica 27 Reggio Visioni e Pensieri ci sarà con noi Forestia Arconte drammaturgo e giornalista donna Antonino Denisi giornalista e Giovanni Santoro presidente della Conf Commercio e poi Visioni da una città collettiva di artisti delle muse venerdì primo febbraio i video dibattiti delle muse e si parlerà di amore perché febbraio è il mese dell'amore lo sappiamo domenica 3 febbraio se ne è parlato tanto ci sarà il documentario sul Messico di giornalista direttore del dispaccio Claudio Cordova la terra degli alberi caduti e in più ci sarà Antonio Morelli giornalista e regista del documentario domenica 10 febbraio questione di cuore questione di cuore naturalmente avremo Giuseppe Cartella psichiatra e neurologo Renato Vigna avvocato e componente osservatorio nazionale carcere riunione camere penali italiane Rosalba Pristeri docente di filosofia meni acutrupi impenditrice e motivatrice domenica 17 eccole un'altra novità faremo una giornata tra antiche residenze e degustazione dello stocco di Mammora e visiteremo lo storico palazzo d'Agostino che risale subito dopo al 1783 in quel di Serrata quindi andremo a fare una full immersion e con noi saranno appunto le sorelle d'Agostino Maria Teresa che non è con noi per problemi familiari stasera e la vicepresidente domenica 24 domenica 24 con il nostro Don Nuccio Cannizzaro ospitiamo un evento a livello nazionale dell'associazione della sclerosi multipla verrà il presidente nazionale Gualtiero Nicolini e poi il professore Salvatore Spagnolo che è un medico che è a origini calabresi che ci parlerà delle ultime scoperte sulla sclerosi multipla e ci sarà un concerto che farà arie barocche presso il tempio di San Giorgio alla Vittoria il concerto farà brani da Corelli a Bivaldi e si chiama Brio Barocco venerdì 1 marzo la Calabria all'archivio di Stato per i video di battiti martedì 5 la nostra festa di martedì grasso dove noi ci travestiamo come vogliamo e avremo l'accompagnamento e l'insieme dei nostri artisti dell'associazione i nostri maestri che cantano e che danno una collaborazione attiva e fattiva che sono appunto Luigi Barberio e Adele Leanza che saranno con noi domenica 10 quinta edizione delle muse nella terra delle Aci saremo in Sicilia il tema quest'anno è la creazione domenica 17 un titolo di una canzone di Liga Bue le donne lo sanno parleremo di donne con Mariella Grande direttore conservatorio di musica cilea Lidia Pratico psicoterapeuta Elena Colomiz vicepresidente e direttore associazione Casarussa Arti Erzia Luca Ambriol Ambrosio psicologo Monsignor Giacomo Danna parroco della chiesa di San Paolo la Rotonda il coro Laudamus e la partecipazione del coro delle muse diretto dalle sorelle Marina e Denza Cussola e la collettiva degli artisti sogno di donne domenica 31 marzo la letteratura di Domenico Monoriti tra Reggio e Staiti avremo qui Giovanna Tripodi il sindaco di Staiti Leone Campanella presidente del consiglio comunale Rosa Marrapodi critico letterario Alessandra Valenzise figlia dell'artista Reggino Fortunato Valenzise e rappresentanti della famiglia Monoriti venerdì 5 aprile i video dibattiti delle muse il tema sarà le tradizioni religiose domenica 7 avremo il più grande conoscitore e studioso europeo dell'istituto nazionale delle mummie di Bozzano il dottore Dario Piombino Mascali è uno degli antropologi più importanti il quale ci parlerà delle mummie di carta e delle catacombe dei cappuccini nelle opere letterarie dal 1700 al 1900 domenica 14 la messa delle muse e la domenica delle palme alla chiesa del soccorso sabato 20 allora questo sabato 20 è il sabato prima della domenica di Pasqua però io l'ho inserito per una motivazione dovete sapere che a casa della vicepresidente il sabato prima di Pasqua vi è un rituale di vestizione della sagra statua della Madonna con tanto di comitato è una cosa bellissima a cui io sono stato invitato e ho avuto il piacere di assistere e quindi partiremo il pomeriggio per andare a vedere come avviene all'interno di questa bellissima e prestigiosa casa la vestizione della statua della Madonna dell'Assunta a casa d'Agostino ci sarà un rituale la statua la custodiscono loro e viene vestita proprio con delle fasi addirittura con tanto di prova dello svelo cioè della caduta del velo che viene fatta con una corda insomma ormai lo posso fare pure io no diciamo non lo posso fare non posso essere ammesso a questo non posso rubare al comitato domenica 28 prova aperta avremo il momento finale del laboratorio di lettura interpretativa dell'attrice Teresa Timpano perché quest'anno faremo sempre il laboratorio di lettura interpretativa venerdì 3 ci sarà pure con noi la psicologa Dominella Cogliata il 3 maggio venerdì l'ultimo video dibattito all'archivio di stato di mattina scuole a confronto domenica 5 quest'anno l'evento regionale degli artisti al decimo anno organizzato da Giuseppe Rivoti come muse Marisa Scicchitano per quanto riguarda la galleria Zeusi e l'associazione arte club accademia di Catanzaro e Anna Lauria che è praticamente la presidente dell'UNESCO per quanto riguarda la poesia in Calabria abbiamo organizzato l'evento a Monterosso Calabro sabato 11 saremo al complesso monumentale di Catanzaro perché avrò il piacere di presentare una mostra del movimento nazionale del dinamismo cosmico che è un nuovo movimento di tendenza artistica e di cui la nostra Marisa fa parte e quindi faremo questa mostra in un luogo deputato domenica 12 al soccorso faremo la prima rassegna di musica corale diretta da Enza Cuzzola dedicata alla Madonna domenica 19 avremo il giornalista Enrico Antonio Cameriere scrittore e fotografo con Agostino Belcastro ci parleranno del cuore caldo di New Orleans tra cibo e peccato domenica 26 saremo a Bocale in Fiore quest'anno presenteremo la natura la fede dell'arte itinerare i bizantini con Aurelio Galtieri l'1 e il 2 giugno la gita di fine anno e per concludere vorrei nominare gli artisti delle muse Daniela Campicelli Adele Leanza Cristina Benedetto Raffaele Arena Anna Lauria Antonella Minasi Mimma Gorgone Pina Calabro Domenico De Lorenzo Angelo Meduri Sara Lucifaro Rossella Marra Angelo Triolo Grazia Papalia Renato Amodeo Doro Simona Scoperilliti Antonella Daganà Santa Maria Milardi Marisa Cecchidano Nunzia Gimondo Giancarlo Arturi Manuela Lugarà Ilario De Marco Elvira Sirio Daniele Calabrese Maria Teresa Gereto Francesco Logoteta Pierfilippo Bucca Sebastiano Brutino Pino Gattuso Daphne Nocito Cinzia Ferro Il Coro Il Coro Delle Muse Proverà Ogni Mercoledì Dalle 19 Alle 20 I video dibattiti Ogni primo venerdì Del mese Il Corso Di lettura Interpretativa Il 3 10 17 24 27 Aprile Il Laboratorio Invernacolo Verrà fatto Con le prove Ogni giovedì Dalle 19 Alle 20 E durante l'anno Presenteremo Nelle scuole Il vocabolario Del dialetto Regino Diretto dal Dottore Salvatore Ventura Per concludere Voglio chiamare qua E mi sembra giusto I personaggi Che forse ancora Non conoscete tutti Del direttivo Partiamo Dalle segretarie Le professoresse Mimma Conti E Rosaria Livoti Quindi li vedete Così avete anche Un applauso La consigliera Rapporti E comunicazione Con i soci L'architetto Leonora Prepicone Che sta venendo Ecco qua Eleonora Che arriva La referente Di poesia Che non è qui La Rossana Rossomando La poetessa Regina Tra le più Attente Per quanto riguarda Il vernacolo La nostra Referente Direttrice Di storia Del teatro E del cinema Delle muse Appunto La dottoressa Paola Abbenato Vi prego La referente Dell'apparatore Teatrale Clara Gondello Puoi venire Grazie La referente Del coro Delle muse La professoressa Direttore Maestro Enza Cuzzola Referente Delega Multimediale Francesco Logoteta Artista L'immagine La vicepresidente Francesca D'Agostino Questa è una foto Di gruppo E di squadra Che facciamo Con la nostra Principessa E con La nostra Dottoressa Appunto Paparatti Che rappresenta Ci facciamo Una fotografia Queste sono le muse Io vorrei Prima fare una foto Vediamo subito Il programma Così Avrete la vostra La vostra copia Mi sembra che è tanto Per quest'anno È stato difficile Ma ce l'abbiamo fatta E poi Mi dovete permettere Permettere una cosa Io voglio ringraziare Mentre voi potete Dare il programma A tutti Voglio ringraziare Caterina Tripodi Del quotidiano Che veramente Ha promosso Con grande spirito Le nostre attività Cristina Cortesi Aldo Mantineo Della Gazzetta del Sud Che ci ha sempre seguito Il nostro istancabile E generoso Editore Di Merito TV Evittente televisiva Di cui io mi onoro Di fare parte Di questa famiglia Presto Vedrete in chiaro Anche Dalla parte Insomma Centrale Della città Che è Merito TV Il canale 817 Un evittente Che segue La cultura Quella Vera E quindi L'applauso va Al nostro editore Il dottore Bruno Taverna E al nostro Estancabile Tecnico Che ci sopporta Che ci sopporta Che è Dario Mudeo Che ha ripreso Tutta la manifestazione E questo è Veramente La forza Della nostra Associazione Abbiamo fatto Una famiglia Una squadra Una serie di rete E di Una rete di relazioni Che naturalmente Promuoveremo Con tutti voi Perché Noi non abbiamo Nessuna Nessun Come si dice Il Parlamento Ma noi facciamo Quello che ci piace fare Quando le cose Sono fatte Col cuore Probabilmente Voi siete La testimonianza Che questo cuore Si comunica Anche perché La nostra finalità È fare Come dico sempre io La cultura La cultura Vera e autentica Francesca Vuoi concludere Tu L'applauso Alla nostra principessa Della dottoressa Paparazzi Per questo evento Rimarete con noi Andremo al secondo piano Per un piccolo buffet Univiale Prima però Vi distribuiamo i nostri Programmi Vi aspettiamo La segreteria Aperta Ogni mercoledì Dalle 18 Alle 20 Grazie Francesca Che dire Poco a poco Poco di più Perché Beppe ha già detto tutto Comunque vi aspettiamo Veramente numerosi Nello spirito Della cordialità E del messaggio Tra le varie associazioni Tra le varie persone Che vi compongono Senza Diciamo Competizioni Senza Invidia E cercando di rendere Il messaggio E abbiamo Grazie a tutti Non avete colpore Andiamo Ci troviamo Presso il liceo scientifico Alessandro Volte Esattamente Nell'aula Socrates In un liceo Scientifico Di prestigio Della città Di Reggio Calabria Ritorna Il premio Muse 2019 In questo caso Con la principessa Margherita Lanza Di Scalea Per un incontro Con i ragazzi In un istituto Che naturalmente Vanta in Calabria L'indirizzo sportivo E anche l'idea Di un campus Innovativo Diffuso Nella zona De Rione Modena Della città Naturalmente Ringraziamento Va alla preside Mariella Palazzolo Il dirigente scolastico Che accoglie Anche le associazioni E i sodalizi Come le Muse In un incontro Come questo Ma in questo caso Il saluto istituzionale Oggi è dato Dalla vicepreside Del liceo scientifico Volta La professoressa Anna Borrello Buongiorno Per noi è stato Un grande onore Poter ospitare Oggi L'associazione Culturale Le Muse San Margherita Lanza Di Scalea Premio Muse 2019 Che ha intrattenuto I ragazzi Facendo loro Immaginare Soprattutto Pensare Ad un futuro Che non sia Il solito futuro Cioè Un futuro Legato Al territorio Quindi Al mare E agli nuovi mestieri E nuove possibilità Lavorative Che vengono dal mare Quindi ingegneria Ingegneria Nabale Quindi Avvocato Marittimista Quindi Tutte le altre Professioni Che possono Appunto Dare ai giovani Un nuovo futuro In una realtà Come la nostra Che se Non pensa Al territorio Alle capacità Che E alle possibilità Le opportunità Che il territorio Offre Probabilmente Non lascerà Per loro Spazi E possibilità Di Rimanere Nella loro terra